Con il professor Nino Mazzone facciamo un po' il punto sulla campagna vaccinale, se ne sta parlando ovviamente tantissimo in questi giorni, anche alla luce della confusione, del disorientamento, soprattutto per la popolazione che si è creato attorno al vaccino AstraZeneca, prima concesso, poi vietato, poi consigliato, insomma solo per gli over 60. Seconda dose per quelli che l'hanno già ricevuto in prima somministrazione, invece Pfizer o Moderna, qual è il suo parere riguardo questo caos che si è creato? L'unica cosa che noi dobbiamo dire è che dobbiamo dire con incertezza che dobbiamo vaccinare tutti, stiamo riuscendo in questo paese, abbiamo superato più le 40 milioni di somministrazioni, ci sono stati dei problemi, dei problemi reali con il vaccino AstraZeneca e anche dei problemi di comunicazione. Il dato di fatto oggi è che chi ha meno di 60 anni è meglio che non lo faccia perché tutti gli effetti collaterali sono comparsi purtroppo in questa fascia d'età. La seconda raccomandazione che posso darvi è che se avete fatto come prima somministrazione AstraZeneca va fatta la seconda somministrazione, Pfizer o Moderna non ha importanza perché sono dei vaccini diversi e questo dovrebbe evitare gli effetti collaterali che purtroppo abbiamo avuto con AstraZeneca. Non mi ha detto la sua opinione personale, giustamente probabilmente non la vuole dire, però il disorientamento della popolazione è palpabile riguardo anche le modalità con cui è stata gestita questa fase della pandemia. Ma guarda io sono assolutamente d'accordo con quello che lei dice, la comunicazione in questa campagna purtroppo pandemica, disastrosa, non è stata delle migliori. Sono state trasmesse delle notizie che probabilmente dovevano essere non trasmesse o mediate e soprattutto la comunicazione doveva essere semplice sin dall'inizio. Sin dall'inizio bisognava dire chiaramente come ad esempio hanno fatto in Israele che chi ha avuto il Covid non doveva essere vaccinato e questo era molto importante perché noi avremmo risparmiato una dose. L'altra cosa che bisognava sottolineare è che i pazienti esposti che avevano avuto parenti o soprattutto nell'ambiente dove lavoriamo noi, era utile fare la sierologia, capire che se anche tu non avevi avuto la malattia ma avevi gli anticorpi anche questi andavano, come dire, vaccinati per ultimi. Noi a quel punto avremmo risparmiato, si calcola in Italia, più di 8 milioni di dosi e avremmo raggiunto già forse adesso l'immunità di gregge. Perciò sicuramente la strategia sia di comunicazione sia pratica della campagna vaccinale della pandemia non è stata delle migliori. Certo, adesso dobbiamo avere i dati, ragionare, vedere tutti i vaccinati, vedere quali sono le reinfezioni. Come dicevo prima, noi recentemente abbiamo pubblicato su JAMA, che è il giornale della Società Americana dei Medici, una delle tre riviste più importanti su una casistica notevole della nostra ASST, che è 500.000 abitanti con 122.000 tamponi e 16.000 ammalati. A distanza di un anno solo 5 si sono riammalati. Di questi 5, 4 erano dei pazienti che avevano una patologia ematologica, perciò non in grado di immontare e di sviluppare una risposta immunitaria. Pertanto adesso possiamo dire con certezza che a un anno la reinfezione non esiste o è lo 0,07%, ma comunque dei 5 reinfetti nessuno si è riammalato di polmonite, era solo una positività al tampone molecolare. Perciò dobbiamo essere assolutamente ottimisti, come per chi ha avuto il Covid, anche per chi ha avuto il vaccino. Chi ha avuto il vaccino sicuramente sarà immune e a un anno tireremo le conclusioni. Quanta gente col vaccino si può riammalare, io credo che sia la stessa percentuale che si ammala di chi ha avuto il Covid come esperienza veramente drammatica della propria esistenza. Possiamo dire quindi quelli che hanno avuto il Covid e hanno sviluppato chiaramente gli anticorpi, vaccinarsi è inutile e forse anche dannoso? In alcuni casi sì, perché se uno ha tanti anticorpi però dobbiamo ricordare che l'immunità non è solo anticorpi, l'immunità che si sviluppa per una malattia virale implica anche l'attività di alcune cellule di globuli bianchi che sono i linfociti che diventano memoria, si chiamano infatti cellule T-memoria che si ricordano dell'infezione e quando uno si reinfetta viene, come dire, interviene ed elimina il virus. Questa immunità cellulare che è studiata in maniera particolare, che ha studiato un italiano che dirige a Los Angeles l'immunologia che si chiama Professor Setta, ha dimostrato che le cellule memoria rimangono oltre 9 mesi in oltre il 95% di chi ha avuto il contatto. È chiaro che se uno ha avuto il contatto e ha gli anticorpi, sicuramente con i dati e la medicina basata sull'evidenza, noi oggi possiamo aspettare un anno almeno. C'è preoccupazione in Gran Bretagna per questa variante Delta, variante indiana, che chiaramente sta prendendo un po' piede, nonostante un elevatissimo numero di vaccinazioni. Dobbiamo preoccuparci anche noi? Il problema delle varianti dipende, capisci? Se noi abbiamo un'immunità naturale o un'immunità vaccinale che ci protegge anche di alcune varianti, perché la variante vuol dire che si modifica la struttura del virus e probabilmente si modifica anche la struttura, come dire, della proteina Spike, dove sono fatti tutti i vaccini per proteggerci dal virus, dal SARS-2-CoV-19. È chiaro che se si modifica la struttura del virus, come può succedere, può anche succedere che alcuni vaccini non siano efficaci. Ma il sistema attuale funziona talmente bene che modificare assolutamente il vaccino non è un problema. È chiaro, speriamo che queste varianti non si diffondano come si è diffusa la variante inglese, che ormai ha occupato praticamente tutte le infezioni, almeno in Europa, e che siano assolutamente meno contagiose e meno gravi della SARS-CoV-19, che con le polmoniti purtroppo ha portato a morte diverse persone. Possiamo chiudere con il messaggio del professor Mazzone. Quindi vaccinatevi, nessun timore e nessuna paura di eventuali mix, diciamo, tra vaccini. Sì, sono d'accordo. Dobbiamo vaccinarci tutti. Chi ha avuto il Covid e ha gli anticorpi può anche aspettare un anno a vaccinarsi senza problemi. Quindi il richiamo per chi ha fatto prima AstraZeneca può essere Pfizer o Moderna senza nessun problema. AstraZeneca soltanto nelle fasce avanzate di età, però credo che adesso, credo che l'Italia non ne abbia più acquistato di vaccini, perciò è un problema che si risolve da solo. Buona estate allora. Grazie. Grazie.